Pippo Enzaghi Pippo Enzaghi diventerà papà per la prima volta a 48 anni, che compierà il prossimo 9 agosto. La compagna, Angela Robusti, è incinta. La coppia regala l'annuncio della gravidanza sui social e svela il pancino della bionda ex corteggiatrice di uomini e donne. Rivela anche il sesso del bebè e la cicogna porterà un maschietto. La modella è wedding planner classe 90 e l'ex bomber di Juve Milan, allenatore che nella prossima stagione guiderà il Brescia in Serie B, sono al settimo cielo. L'estate è di dolce attesa per i due insieme dal 2018. E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, scrivono la Robusti Enzaghi, allora capisci che starà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo, metto del nostro cuore, siamo già pazzi di te.